Sì, è a terra. Sì, è un po' di caldo. Sì, è un po' di caldo. Non dite, non dite. Ora glielo porta le gabbie. Pago, vuol da Pago, l'ago metterne messo. E tu vuoi uscire le gabbie? Dentro. Sì, dentro. Vai, caos. È mangiato, è mangiato, è mangiato. Ssssshhhh. La cucina, la cucina. La cucina. La cucina. La cucina.